Il consiglio che da sempre è di stare attenti quando fate i curriculum. Quando fate i curriculum si piombano nelle mani di uno come me, sappiate che gli viene l'orticaria, si trova degli errori ortografici, dei refusi, delle cose fatte con sciatteria. Tutta la vostra concentrazione deve essere sull'essere precisi, accurati e soprattutto nel dare veramente la comunicazione che lo siete e che è il vostro modo di lavorare e di porvi. Ma soprattutto, soprattutto, non raccontate che sapete usare Word se poi mi includete una immagine di 40 megapixel all'interno del file Word per cui mi arriva un curriculum che potrebbe essere un tomo dell'Encyclopedia Top Treccani e invece è costituito soltanto dai pixel della vostra fotografia.